Li vedono in testa Misano Monte con 13 All'ultimo posto abbiamo scacciato Scusate Misano Mare, a me mi picchiono Ho visto lì il cariolista, però devo darti atto che hai fatto una capriola nottevole Devo darti atto che con non fanno Anzi qualcuno sicuramente ti avrà ripreso Devo darti atto di quello della sportività Perché hai fatto un bel volo Ok, seggio lì nel Papa, pronti? Misano Monte, si prepara scazzando dopo Allora, no no, le mani tutte giù eh Giù, ok Al di là della riga Misano Monte, ascoltatemi Dovete dare il cambio, anche voi là Dopo la riga, non prima eh Ok? Ok Luigi? E ora siamo perditi con loro Dopo facciamo Enrico! È uguale, dato ormai non cambia nulla Allora, pronti? Questo è a tempo eh Allora, chiaramente state dentro la corsia E se cadete dovete ricominciare Pronti? Arbitri, ok? Eh? No, fa la corsia Scusate Dovete fare lo stesso percorso dalla Cariola e il Cambiola Pronti arbitri? Pronti col tempo? Al mio via eh Tre, due, uno, via! Ok, ecco qua Partiti con il senzolin del Papa Con la sposa La vedo al quanto in apprezzione lì Con questi due ball di giovanotte Adesso ci sarà il cambio Al di là della riga Benissimo Vediamo il cambio Velocissimo Il cambio di Misano Monte Ecco in curva Attenzione Non inzampare Ecco Un di due Arriva Misano Monte Che arriva Prendiamo il tempo E vai! Ok, bambini Attenzione lì eh Seggio lì in del Papa Vediamo quanto si prepara Scazzano Scazzano chi ha? Forse farà 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 Ma se ce la parliamo Forse 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 la parliamo Che se ce ne Tuca Adesso vi comunico Il tempo Di Misano Monte Il seggio lì del Papa 22 secondi E 60 Parte Scazzano Si prepara Villaggio Argentina Si prepara Villaggio Argentina Pronto Scazzano? Arbitri Tempo Tutto ok? Va bene Tutto ok? Tutto ok? 3 2 1 Via! Ecco qua Il partito Scazzano Vai 20 secondi 20 secondi 20 secondi Stai Stai Vito Guarda Vito Vito Villaggio Argentina Prepara Misano Mare Allora Scazzano Impiegato 26 18 Avete Avete perso Un po' di tempo Adesso vediamo Villaggio Argentina Si prepara Misano Mare Arbitro ok Ok 3 2 1 Via Ecco partito Gli arancioni di Villaggio Argentina Ecco la dama un po' in apprensione Li vedo un po' in difiore Dai che potete riprendere Dai che potete riprendere Vai Dai Dai Va bene Va bene Facciamo riprendere Sì No Va bene Dai Che potete riprendere Ok Vediamo Un'ora e mezzo Villaggio Argentina Impiegato 31 0 9 A causa della caduta Misano Mare Pronto? Pronti? Arbitri Pronti? 3 Ok Aspetta Dammi lo che Lotti Vado 3 2 1 Via Adesso non tengo la turno Guardami Guardami Io prendo su Tutti Ecco qua In partenza Misano Mare Questi baldigioni Al cambio Devono passare la riga Devono passare la riga Non possono avanzare la sposa Almeno quella è Ok Sempre più in difficoltà Misano Mare Sempre più in difficoltà Misano Mare Un'ora e mezzo Un'ora e mezzo Si prepara A bandadere Squalificati Un gioco Un gioco Va bene Sì Sara Siamo arrivati senza Seggio l'ora Ok Vediamo misano Mare Quanto ha impiegato Squalificati Ok Misano Mare Eliminato Il giudizio ha deciso che Misano Mare Squalificati Non ha tempo Eliminato